Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come avrete letto dal titolo oggi andremo a vedere un video di Peck a Fossfishing questo video è un insieme di clip molto molto vecchi e pensate sono del 2018 dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti mi raccomando superiamo i 70 like per questo video e un altro annuncio importante da farvi lunedì uscirà un video assolutamente pazzesco che è veramente uno dei più belli che mi sia mai riuscito soprattutto sia nella parte pescata sia nella parte montaggio che veramente fa paura dunque mi raccomando ragazzi lunedì vi aspetta ore 13 come i pescatori combattono il coronavirus dunque ragazzi non perdono altro tempo e via con il video dunque ragazzi non perdono altro tempo riso ecco cos'è che mangiava è una scardola porca troia che pacca però sembra una scardola che è la tua forma di scard preferita perchino sullo scardino scuro perché stavi battendo nella maniera sbagliata capito che quello là è da mangiare in questa maniera qua allora fai arrivare sul fondo fai così fai toccare il fondo fai così fai toccare il fondo si siamo a modi pescano di rosa preso 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 perca in caduta perchettino porca troia ok perchino no basta release percettino c'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho Black Me Innova ne c'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho, c'è l'ho. Putani si è slamato. Sì Grazie a tutti. Io voglio mangiare proprio di merda. Io voglio mangiare proprio di merda. Stanno mangiando di merda. Mangiano corti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ce l'ho. Un pesce. Il primo perca è arrivato. Bel percotto dai. Non è piccolissimo neanche grande. Andiamo a prenderne qualcuno un po' più grande. Primo lancio, primo pesce, subito. Così. Un po' più grande. Ce l'ho. Ce l'ho. Bellino questo. Boom! Mercotto invernale. Ecco, se ne è già anche slamato. Subito, dopo aver lanciato. Un po' più grande. 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 altro percatto, questa volta con la favorit x1 vediamo un attimo, proviamo a fare un altro Grazie per la visione